Va avanti. Senti, le tue protagoniste o in generale i tuoi protagonisti sono in genere importati a narrare delle storie di dolore. Diciamo che il dolore è uno, il dolore delle sue varie scaccettature, è uno delle tematiche ricorrenti nei tuoi romanzi. Tu ritieni che questa famosa condivisione di emozioni, di cui abbiamo parlato fino ad ora, sia più facile attraverso il dolore che attraverso la gioia, per esempio? Stanotte mi è venuto per l'acconto che ho messo sul blog, che è l'amore, una delle prime volte. Il dolore si vede che a volte viene anche dal non soffrire. È vero che il dolore è un buon motore per la scrittura, ma non sempre. Ho scoperto che anche la serenità o i brevi stati di volumi, stati di felicità, possono creare la scrittura. Fa parte della mia evoluzione. All'inizio dicevo la scrittura è l'istinto, adesso dico la scrittura è una cosa molto complessa. Ha detto anche tecnica, rigore, disciplina e lavoro. Quanto è un programma futuro? Il mio programma è quello del video romanzo per sordi. È stato un video di calco, però sono di miniatura. Molto. Video romanzo per sordi. Questo è il mio programma. Ed è molto importante, ho detto perché? Perché secondo me cambia anche me come persona e mi aggiunge qualcosa. Quindi questo è l'unico programma. Io non è male. Dalla mia bocca sono sempre uscite pochissime parole. Sono migliorata di recente, quando il lavoro mi ha strappata al mondo del silenzio. Ricordo che i grandi, quando non ero alta che un metro, dicevano che ero timida e non parlavo mai. Avrei avuto molto da dire, ma non trovavo la voglia. Ero pigra, non timida. I muscoli del viso non volevano collaborare. E allora, come adesso, detestavo la retorica e non riuscivo a trovare argomenti che valessero la pena. Forse non mi facevano le domande giuste, oppure nessuna domanda era giusta per me. Scrivere, invece, era il gesto più naturale. E se qualcuno si fosse dato la pena di capire, non avrei perso, tutti questi anni, alla ricerca del senso della mia vita. L'avrei visto subito e mi sarei chiusa in questa stessa stanza, molto prima. Molto, molto prima. Mangiare era come scrivere. Naturale come per i punti, ma più nascosto. Mio padre mi aveva interdetto ogni accesso alla cucina. Ero la primogenita, destinata a diventare bella e intelligente. Brava, bella e intelligente. E la donna bella è magra. Quindi, bisognava prevenire e tapparmi la bocca. Niente merendine, cioccolato solo quando mia cucina Margherita, la vera magra di casa, la vera bella, implorava mio padre che ne desse un po' anche a me. Basta solo se i parenti mi invitavano da loro. E mio padre non permetteva che accettassi quegli inviti. Per non insultare la mia glicemia. Per non scatenare quell'insulina che schizzava alle stelle. Per non diventare grasso. Per non morire. Quel periodo fu fatale. Credo che la mia ossessione per il cibo sia iniziata proprio lì. Non saprei spiegare altrimenti il pensiero fisso che mi ha accompagnato fino a qui. la zattera di salvataggio alla quale mi aggrappo ancora e ancora e ancora quando cerco l'amore l'abbraccio la comprensione perché il cibo è il mio abbraccio è il mio abbraccio per Cristo vado a te grazie 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 a voi grazie grazie Alessandra grazie un'anomato grazie fatto di scrivere storie brevi che possa aiutare o essere adatto all'interpretazione di S veramente non lo so forse forse la mia Alessandra se il racconto più breve o il romanzo più breve sia maggiormente adatto all'essi tempo di non sapere del mio video nel senso che è un'esperienza di seguire scopriremo sì lo scopriremo perché in realtà il romanzo è al momento è medio un editore di quelli di giocare lungo però lui è così e non lo so davvero lo chiederemo perché se un'anomato me lo sono chiesta anch'io poi però preda del foco della scrittura ho tirato fuori per ora un romanzo abbastanza lungo sì a tanti ragioni di farlo che so hai un libro interamente dedicato più o meno grazie 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 a tutti se ci sono domande le parti di grazie a voi grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti